puntata dello sportello del cittadino riservata all'adoc quest'oggi siamo con l'avvocato cinzia ligustro che appunto un legale dell'adoc e affrontiamo il tema delle conciliazioni con edison edison lo ricordiamo è un fornitore di energia elettrica e di gas come ad hoc in che direzione vi state muovendo per quanto attiene alle conciliazioni come state operando l'adoc ha stipulato con edison un protocollo d'intesa per cui ha firmato e accettato la conciliazione paritetica in che cosa consiste la conciliazione paritetica l'utente che ha subito dei disagio dei disservizi legati alla fornitura di gas ed energia elettrica si parla di utenze domestiche soltanto per edison e ha regolarmente inoltrato un reclamo al fornitore corredato da tutti i dati necessari ad identificare la fornitura ed anche il disservizio che lamenta può successivamente se il fornitore non ha risposto entro i 40 giorni solari così come da delibera 164 2008 dell'autorità garante appunto dell'energia elettrica il gas se non ha risposto il fornitore entro i 40 giorni oppure ha risposto ma in modo che l'utente ritiene insoddisfacente può appunto muoversi verso la conciliazione paritetica è un'operazione molto semplice che può essere fatta in proprio quindi inviando tramite fax o tramite email il formulario che può essere scaricato dal sito internet edison o dai siti delle associazioni firmatarie quindi anche dal sito ad hoc oppure può rivolgersi all'ad hoc o ad altre associazioni dei consumatori firmatari e del protocollo d'intesa le quali provvederanno ad inviare la listanza di conciliazione il tavolo di conciliazione composto dal conciliatore edison e dal conciliatore ad hoc trova una un punto di incontro viene redatto un verbale una proposta conciliativa se l'utente l'accetta verrà firmata e quindi il problema risolto altrimenti purtroppo si dovrà procedere diversamente